Eccolo qui l'inquadratura sul comignolo della Cappella Sistina, vedete come d'altronde era prevedibile il fumo è nero. Sono le immagini che arrivano in diretta e questo è il risultato della prima votazione del conclave, appunto fumata nera per la prima votazione da parte dei 115 cardinali riuniti in conclave da questo pomeriggio. Non si è trovato l'accordo, non c'è appunto il nome del nuovo Papa. Nessuna sorpresa, naturalmente perché come è stato detto più di una volta in questa giornata, era prevedibile che non si trovasse l'accordo al primo voto fra i 115 cardinali elettori. È vero che, come sapete, le cordate sono state costruite nel corso delle 10 congregazioni generali dei cardinali e nei tanti incontri riservati. Però era quanto mai quasi impossibile che si arrivasse ad un accordo e quindi ad una fumata bianca dalla comignolo della Cappella Sistina già questa sera alla prima votazione. Beh, questa volta il fumo è davvero molto molto denso e molto nero. Non ci possono essere dubbi né equivoci sul colore del fumo e quindi il risultato negativo alla prima votazione. C'era stato qualche tumore per la verità perché la pioggia avrebbe potuto influire in qualche modo sul colore del fumo e quindi la paura è che ci potesse essere qualche incertezza nel momento in cui il primo fumo fosse uscito da questo comignolo. Ma insomma, non ci sembra davvero questo il caso. Non appena la inquadratura in piazza San Pietro verrà allargata, vi potremo anche mostrare la folla che ha corsa in piazza, in questa piovosa serata romana. Ci sono tanti fedeli che arrivano non solamente naturalmente dalla capitale ma da tutto il mondo, fedeli e anche semplici curiosi che vogliono assistere dal vivo e sentire magari con le loro orecchie l'annuncio del nuovo Papa, del successore di Papa Benedetto XVI.